Asus Zenfone 3 Max, un dispositivo adatto secondo me per chi utilizza tanto un dispositivo per lavoro, non ha bisogno di particolare potenza ma ha bisogno di un'ottima batteria e di una qualità generale nell'utilizzo veramente alta questo Zenfone 3 Max secondo me è il dispositivo ideale bello esteticamente rispetto allo Zenfone Max che avevamo provato precedentemente bello da tenere in mano, leggero, si utilizza davvero benissimo insomma andiamo a scoprirlo da vicino e a vedere pregi e difetti di questo Zenfone 3 Max ed eccoci qui con Asus Zenfone 3 Max le dimensioni sono di 149.5 mm di altezza, 73.7 mm di larghezza, 8.55 mm di spessore un corpo unibody, le bande in alto dovrebbero essere in plastica anche se in realtà al tatto sembra tutto alluminio, uno schermo molto carino, si vede bene, non dà particolari problemi 5.2 pollici con risoluzione 1080x720 quindi HD con una densità di pixel di 282 ppi un buon IPS LCD per quanto riguarda il processore abbiamo il Mediatek MT6737M Cortex A53 1.3 GHz quad core, 64 bit, la GPU è la Mali T720 MP2 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna e espandibili con micro SD qua troviamo il carrellino sulla parte destra abbiamo il volume rocker, il pulsante in cessione e spegnimento sulla parte alta il jack per le cuffie sulla parte bassa micro USB che è uno degli aspetti negativi di questo Zenfone 3 Max che non utilizza Type-C e il microfono sulla parte sinistra il carrellino per le SIM sulla parte bassa, sensore di impronte digitali che devo dire non è sicuramente uno dei più reattivi anzi spesso non prende il tocco fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e fotocamera frontale da 5 megapixel capsula auricolare la batteria che è il punto di forza di questo Zenfone 3 Max è a 4130 mAh una batteria che con utilizzo intenso mi ha permesso di fare circa 5,5-6 ore di schermo e completare tranquillamente la giornata addirittura permettermi di fare qualche ora anche della giornata successiva il dispositivo arriva a disco è molto interessante il sensore di impronte digitali è buono prende abbastanza bene anche se spesso lascia un po' a desiderare nel senso che non prende il nostro input quindi il dito appoggiato andiamo subito a vedere il display e ad analizzarlo più da vicino abbiamo dei buonissimi neri anche se qua secondo me la nota negativa è si va bene non mi interessa la nota negativa è un po' l'angolo di visuale perché tende ad essere abbastanza scarsetto ma devo dire abbiamo dei neri resi veramente bene i bianchi invece sono tendenti al giallino infatti il contrasto nero bianco si vede che non c'è quella nitidezza che ci dovrebbe essere i colori invece sono veramente molto brillanti luminosi, vivaci e mantengono la giusta naturalezza pulsanti a schermo che portano via parte, porzione di display e questa è una cosa che a me non fa impazzire su questi Android abbiamo però la possibilità di andare a gestire quasi tutte le impostazioni grazie al UI di Asus la Zenfone UI possiamo andare a gestire praticamente qualsiasi tipo di impostazione dalla griglia all'icone proprio a livello di tema, di layout e come potete vedere io ho utilizzato Dark Matter che è un layout che mi piace veramente tanto e funziona veramente molto bene dal punto di vista di utilizzo generale non mi ha dato particolari lag se non con giochi particolarmente pesanti ma devo dire che nel complesso è un dispositivo che funziona veramente molto bene con una batteria impressionante una ricezione buona l'ho utilizzato insieme all'iPhone 7 e 7 Plus e devo dire che non mi ha mai dato problemi dal punto di vista di ricezione nota negativa la Wi-Fi non prende la rete 5 GHz quindi vi dovrete accontentare della 2.4 se avete solo rete 5 GHz sarà un bel problema ma non credo almeno di solito chi ha la 5 GHz ha anche la 2.4 per quanto riguarda dicevo la ricezione un'ottima ricezione prende veramente molto bene capsula auricolare si sente bene forte quello che dicono dall'altra parte i microfoni funzionano bene lo speaker posizionato qua dietro è abbastanza infelice come speaker la qualità audio è buona nulla di impressionante la potenza è altrettanto interessante andiamo a prendere Top Hits spazio high tech prendiamo la classica canzone che utilizziamo per le nostre prove audio alziamo al massimo prendiamo il nostro microfono mettiamo il max alziamo al massimo avete sentito purtroppo quanto cavolo assorbe appoggiato in questo modo il 102.4 dba se lo alziamo quindi è un risultato discreto, è un buono speaker ma purtroppo se appoggiate in questo modo andrà ad assorbire veramente tantissimo il suono uscente dalla cassa per quanto riguarda la fotocamera qui diciamo che il dispositivo non eccelle particolarmente nella fotocamera avrete poi nella recensione scritta tutti i sample fotografici l'impostazione, il layout è la classica di Asus quindi potrete scegliere tra varie cose potrete poi andare a scegliere all'interno delle impostazioni la qualità delle foto, quindi la risoluzione e devo dire che da questo punto di vista di impostazioni secondo me riprende veramente tanto Mediatek qua il software Mediatek si vede c'è una impostazione grafica migliorata ma nulla di che andiamo a scattare una foto prendiamo questo volantino se avete bisogno di un osteopata e vedete adesso aspetta, mi sposto un po' più in basso la messa a fuoco è abbastanza rapida anche se non troppo e lo scatto è discreto nulla di che però devo dire che sicuramente a livello di qualità di scatto per quello che costa questo dispositivo che è intorno ai 200 euro è secondo me uno dei migliori dispositivi ad oggi sul mercato con una garanzia italiana gestita da Asus per quanto riguarda internet qui dobbiamo utilizzare Chrome Chrome che è l'internet base andiamo su Corriere della Sera andiamo sul Corriere della Sera e mettiamola in modalità Desktop siamo in 4G in questo momento con 3 il caricamento è veramente rapidissimo come potete vedere Chrome funziona veramente molto bene quindi lo scrolling funziona lo zoom in e lo zoom out funziona il doppio tap funziona adesso qua aveva fatto il classico refresh comunque come potete vedere il doppio tap funziona e anche il pane è ottimo e devo dire che il contrasto nero bianco purtroppo è un bianco tendente al giallino il nero invece è molto buono ma nel complesso devo dire si riesce a navigare in maniera eccellente quindi nessun tipo di problema un buon display anche se non è Full HD anche se visto da molto vicino non si vede nessun tipo di pixel e anche nel gaming devo dire alla fine non dà particolari problemi e anzi grazie alla batteria vi garantirà un'ottima capacità di gaming abbastanza lento nel caricamento devo dire che anche esteticamente mi è piaciuto molto come dispositivo si tiene in tasca molto bene si utilizza altrettanto bene la tastiera è la prima cosa che dovete andare a cambiare perché secondo me la tastiera di Asus è inutilizzabile è veramente brutta ma andiamo a far partire il gioco e vediamo come si comporta ci sono tutti i dettagli quindi già qua si parte molto molto bene in quanto su questa fascia di prezzo spesso i dettagli vengono eliminati il cancello qua sulla destra non ha nessun tipo di rallentamento il volante è veramente molto reattivo arriviamo sul curvone vediamo se lì dove lo sforzo richiesto è un po' più alto assisteremo a qualche tipo di lag ma come potete vedere si vede la polvere si vedono le macchine si supera tutto si prende il cordo da dove vibra tutto e non c'è nessun tipo di perdita di frame quindi si riesce a giocare in maniera veramente eccellente a me questo dispositivo devo dire che è piaciuto veramente tanto io ringrazio tanto Asus che mi ha permesso di fare la recensione e spero di poter recensire anche il fratello più grande quindi lo Zenfone 3 normale questo Max è secondo me il must have per chi sta cercando un dispositivo dal basso prezzo che si comporti bene in tutto e per tutto da un'estetica interessante e con garanzia in Italia senza dover spedire in Cina fare cose strane a me è piaciuto molto è piaciuto molto ed è il su questa fascia di prezzo nel complesso secondo me è il dispositivo da acquistare perché abbiamo garanzia italiana abbiamo una batteria veramente ad alti livelli un display che si comporta bene una ricezione ottima una qualità di capsule auricolare buona una fotocamera che scatta foto discrete l'unica pecca secondo me è semplicemente la lentezza nello scatto e nella messa a fuoco e la micro USB che è una tecnologia passata secondo me ormai bisogna metterla Type-C ovunque che costo ha mettere una Type-C al posto di una micro USB questo io non lo so sinceramente ma non penso che sia tanto e poi lo speaker posto qua sul retro veramente brutto senza nessun tipo di piedino appena appoggiato assorbirà come avete sentito tutto il suono uscente dalle casse questi sono i due aspetti secondo me negativi di questo smartphone ma beh ragazzi per 200 euro è veramente una ottima spesa secondo me il miglior dispositivo su questa fascia di prezzo nel complesso guardando prezzo qualità e vantaggi dal punto di vista di garanzia italiana bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se volete acquistarlo troverete il link in descrizione io ringrazio ancora Asus per avermi fatto provare e recensire questo Zenfone 3 Max ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech Grazie a tutti Grazie a tutti